In Panetto di Pani di Silvio Soldini noi seguiamo la storia di Rosalba. È una storia di emancipazione e di conquista della libertà. Rosalba infatti era stata abbandonata e dimenticata in autogrill da marito e figli e decide un po' per caso, un po' per ribellione di fuggire e arriva a Venezia. Dove ricomincia la sua vita. Rosalba, girovagando per le calli di Venezia, ad un certo punto scorge da un fioraio un'insegna, cercasi aiutante. Il fioraio nel film è posizionato nel campiello dei Miracoli alla seconda porta. In realtà a Venezia non c'è mai stato un fioraio lì e Rosalba entra e cerca subito di convincere il fiorista ad assumerla. Lui subito la interrompe bruscamente e le dice no guarda io ho bisogno di un ragazzo robusto ma lei immediatamente lo incalza e gli risponde secondo me lei si sbaglia, lei qui ha bisogno di una donna e alla fine aveva ragione lei. Grazie. 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 Grazie.